Italia! 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 Evidentemente abbiamo meno pressioni di vincere perché siamo arrivati qua con una stagione da parte di tutte italiane un po' sotto tono rispetto alle altre nazioni, ma quel che conta è tirare fuori la grinta, e questa è la convinzione giusta in questa puntata. È servito tantissimo, vuol dire che come un po' hanno fatto i francesi l'altro giorno, l'abbiamo fatto noi, ecco. Indubbiamente, indubbiamente, indubbiamente che se hai un buon sprinter davanti a te che ti lancia veloce, perché gli ultimi 100 metri sei esplicita e esci di sesso, e che sia un tuo compagno è ancora più felice, anche questo non molla fino a tutti. Un po' nervosa, però... ero in corsa con nulla da perdere, nel senso che venivo con la maglia di campionessa del mondo uscente, l'Italia aveva vinto tre ori negli ultimi quattro anni e non ci veniva chiesto assolutamente niente, solo di fare una gara per svolgere nel migliore dei modi, e quando lo facciamo succedono queste progetti. Tante pressioni sulle spalle, questo è come se lei avesse avuto una zavorra addosso, piuttosto che la maglietta dell'Olanda, e questo è stato la vittoria del settimo. Gioca, 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 gioci! Come anche l'anno scorso innanzitutto al gruppo, E comunque anche se quest'anno non abbiamo esposto niente né sulla maglia né sui guantini in merito a Franco Ballerini e a Marina Romoli, vorrei ricordare ai loro familiari e a lei stessa che nel nostro cuore ci sono sempre. Ok, grazie molto.